Le stelle di Azus Una nuova avventura professionale In amore allargate gli orizzonti il più possibile Gemelli, gli amici sono l'arme in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro Ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione Cancro, un breve viaggio vi darà soddisfazione specie se di natura professionale Una proposta innovativa andrebbe valutata attentamente Leone, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore Ma attenti a non sopravvalutare una promessa Venere in Sagittario mette in evidenza i sentimenti Vergine, la luna diventa bellissima regalandovi un'altra ottima giornata Sarete molto attivi sul lavoro e qualcuno può sperare anche in un incasso extra Bilancia, una bella luna rende piacevole la giornata Sarete di ottimo umore, la vostra compagnia sarà piacevole per tutti In serata dedicatevi alla famiglia Scorpione, Mercurio fantastico vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante Molto favorevole anche per ricevere notizie e per proporsi Sagittario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione per voi Non riuscite a vedere i risultati del vostro lavoro Per ottenere di più ci vuole un po' di umiltà Capricorno, Plutone e Sole così energici vi aiutano a contrastare una leggera vena malinconica Che da qualche giorno vi pervade Non rivangate il passato Acquario, la luna fa emergere situazioni di cui non eravate a conoscenza Può indicare anche la confessione da parte di un amico o di un familiare di retroscene inaspettati Pesci, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro Sarete alle prese con i piccoli problemi che vi rallenteranno In amore siete comunque molto ricercati E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus Grazie a tutti Grazie a tutti